Siamo con il dottor Patrizio Mazza, candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista La Puglia domani fitto presidente. In altre tappe di questo nostro incontro abbiamo parlato di sviluppo economico del territorio e abbiamo toccato anche la questione, le problematiche dell'agricoltura. Parliamo specificamente dell'agricoltura, cosa è mancato nell'amministrazione Emiliano, cosa andrebbe fatto, c'è stata poi e c'è l'emergenza Xylella, insomma questo pianeta agricoltura come gestirlo? La Xylella è una questione molto seria che interessa buona parte della Puglia e ha coinvolto il lavoro oltre che di coloro che sfruttavano questi alberi che oggi sono purtroppo morti. E tutti coloro che avevano un indotto da questo, per cui coloro che facevano attrezzi agricoli e quant'altro, oppure pensate a quanta decurtazione di buon olio ci sia di Pugliese. Questo è il danno, cosa è stato diciamo a mio avviso di intempestivo? La Xylella dopo gli studi iniziali ha capito che era un germe, occorreva fare come si è fatto col Covid, essere abbastanza drastici, creare un'area di isolamento, mettere in quarantena aeree e circoscrivere l'area prima che questa si allargasse con la dimensione attuale. Il discorso era palese perché la malattia è andata diffondendosi pian piano dal sud della Puglia su verso il nord e sta arrivando anche quasi nel barese. Per cui sarebbe un disastro enorme se vedessimo tutti gli olivi distrutti, non c'è più il paesaggio pugliese. Per cui questa è la cosa drastica che andava fatta, può darsi che ancora si possa fare qualcosa e agire esattamente come si è fatto con il Covid. Isolare, cercare di mettere in quarantena e vedere un attimo che cosa succede. Altri aspetti da potenziare relativamente all'agricoltura? Soprattutto i prodotti meravigliosi che la Puglia fa nel Foggiano, qui nel nord di Taranto, pensiate agli agrumi, pensate tutti ai cereali, pensate a quello che c'è di orto frutticolo, ortaggi eccetera nel nord soprattutto della Puglia, nel Foggiano. Tutto questo deve essere un marchio doc, deve essere un qualcosa che ha quel valore aggiunto che dice viene dalla Puglia. La Puglia deve fare il marchio di maggiore valore, di valore aggiunto a questi prodotti ed è vero, è vero che è così. Grazie.